Mostri brutti come quelli che devi affrontare oggi fare io su Minecraft, devo essere sincero, non ne ho proprio mai visto Ma come brutti? Sì, sono bruttissimi, non ci posso fare nulla Cioè dovresti dirmi che sono fighissime e bellissime, non brutti Stef, non mi stai motivando Ti spiego un pochettino, ok Abbiamo delle armature abbastanza fighe che avevamo già provato tanto tempo fa Che volevo ritestare, soprattutto quella di Bedrock che dà un sacco di armature, un sacco di vite eccetera eccetera Ok, ok E quindi ho detto, beh, ci serve qualche mostro nuovo, qualcosa di particolare da affrontare Ho visto questi mostri, ho detto, sono brutti, però sono davvero particolari E quindi ho pensato, boh, proviamoli E quindi fare oggi Che devo fare? Ormai mi tocca, non è che posso Esatto, allora, venga qui Qui si può prendere la prima armatura, per ora partiamo da quella di Osidiana, ci pensiamo dopo a provare quella di Bedrock Poi puoi prenderti, vai, sinceramente le spade prenditele tutte, prenditi l'arco, frecce, tutte quelle cose E fare le potete prendere Mentre Stef inizia a decidere con che mostri attaccarti Allora, questo l'ho visto Con che armi inizio? Cioè, mi ha scelto cosa? Sì, sì, fai quello che vuoi Vabbè È un test di armature, delle armi, non mi frega molto L'importante è che riesci ad ammazzarti i mostri Allora, l'arco, lo metto qua Questo è sufficientemente brutto Allora, ce n'era, raga, uno che ho visto Questo è brutto Ok, allora, ci siamo? Sì Sei pronta? Voglio provare questa spada Ok, vabbè, sono fighe, vero? Molto, bellissime, bellissime Allora Anche l'animazione quando la tieni, è fantastica Sì, volevo dire, continuo a mangiare Fere ha una protezione di shield, di armatura molto alta Ma soprattutto ha il doppio dei cuori della vita Ah, quello è vero, sì Non ci stavo facendo caso Comunque, dovrebbe reggere parecchio Vado? Sì Fa anche diversi strani Ma perché si sta lamentando? Non lo so Però Che poi, sai cosa dice che è? È iniziato a piovere È iniziato a piovere Per compassione Dice che questo qua è uno Yeti Cioè non c'ha nulla a che fare con uno Yeti No dai, io però l'ho visto Perlomeno da dietro Prima di vedergli la faccia Ho detto Ok, è uno Yeti Ma quando? Non ha nulla da Yeti Dai, sì Un po' la schiena La peluria Lo ricorda Il problema è che non mi attacca, Steph Quindi devo attaccare per prima Sì, sì, devi attaccarlo Aspetta, mangio perché Ho continuamente fame Non è particolarmente forte Era giusto perché ti volevo far vedere qualcosa di brutto Ma È perché sapevo Che scappa Dai, non posso Cioè, porascio Scappa pure Ma che devo fare? Lascialo lì Hai visto? Cioè, non entrare in quella roba bianca Quello è un attacco È un attacco di difesa Davvero? Praticamente ti fa iniziare a morire di fame E ti rallenta Quindi tu non riesci più a raggiungerlo E lui ti sfama Cioè, no, il contrario Ti defama Come si dice? Far ven... Ti fa venire fame Ti fa venire fame Non abbiamo una parola per dirlo Ok, vabbè Comunque questo qua era lo Yeti Questa era brutta, Steph Allora, partiamo con qualcosa di decente Cioè Ok Bruttissima ma almeno attacca Esatto, vai È brutto, eh Ma non è che attacca all'Oye Tipo raccio È l'iterrorizzato No, speriamo di noi È lontano Vai È un demone sto robo Sì, è big move Sembra Hai presente quel mostro Quel boss che si affronta su Slade Spire Quello proprio rosso così Che aumenta Sì, è vero Che ogni volta che... Ma perché teoricamente è un'entità, capito? Dell'inferno Sì, dell'IH15 È uguale, è bellissimo Allora Voglio dire che con quell'armatura Fri ha perso soltanto due cuori e mezzo È riuscita a sconfiggere abbastanza facilmente Hai ottenuto il potere suo? Sì Ma infinito? No, ne avevo tre Quindi così le ho finite Che figo Sì, figo Bellissimo Allora, sei pronta? Sì Voglio cambiare spada Usiamo questa Questa rossa Questo è il Wendigo Dai raga, che brutti che sono Ma chi li ha fa... Cos'è quell'attacco però? Non lo so Che sta facendo? A parte che tu hai evocato con la tua spada Un mostricciatore di fuoco Che ti sta aiutando Però lui mette Non lo vedo Una pozza d'acqua stranissima Lo vedi che vola? Guarda Nei due Ma che carino Li ho fatto io Aspetta Che fai? No, non fa niente Ah, questa è questa Aspetta, aspetta Aspetta Ma che cos'è questa roba? Lo so Cioè, è dell'acqua che rallenta e basta Sì, una pozzetta d'acqua Va bene, va bene Non sembra molto interessante Ok, proviamo la Venom Axe Blade Ok A livello di animatura questa volta ti ha fatto parecchio, vero? Ho notato che ti ha picchiato bene Sì, sì, sì Allora, secondo me puoi passare direttamente alla Bedrock Perché così non mi sento in colpa se schiatti Capito? Perché sinceramente io non so quanto sono forti le cose che vado ad evocare No, certo Alcune neanche le ho provate io stesso Però volevo mettere Mamma mia, questo mi farà schifo a me Allora, guardatela come diventa di Bedrock Ok Finalmente andiamo a testare l'armatura principale di questo video Eccola qua Un sacco di cuori I cuori diventano tre file Esattamente Quindi aspetta un attimo che me li sto ricaricando Ti puoi mangiare anche una mela d'oro per aumentare la regen, secondo me Almeno qua così fai veloce Sì, se no non la finiamo più Ok, pronta? Sì Anzi, partiamo al più schifoso Vado? Sì Sì Siamo tutti e due di veleno Quindi c'è Qui andiamo a nozze Bellissimo Non ti conviene andare di fuoco contro un raglio? Ok Voglio andare di veleno Non mi trappare Sta cosa che mette le ragnatele No, diamo il fuoco Dietro di sé E che nel mentre la velena È davvero forte Con l'altra spada questa celeste l'ho shottato Hai visto l'emostriciatola che hai evocato? Sono sempre io Sì Bellissimi Ma sono fantastiche queste spade Sì, lo so Lo so, lo so, lo so Grazie Allora, poi Questo non so neanche io che cos'è Oddio, che schifo Oddio Ma calmati un attimo Mi sa che è anche forte questo Ma io so più forte Mi ha avvelenato Mi sta facendo un po' Esatto Fred, devi distruggerlo Devi distruggerlo Questo sennò ti Proprio ti distruggo Lo avveleno anch'io Mangia anche una mella d'oro magari È troppo forte Veloce Troppo forte Si è diviso in piccolini Che schifo Piccolini Ma dai, che schifo È gentile, piccolini Questi qua sono degli oppropri Mamma mia, che brutti Ok Ce l'hai fatta a sopravvivere? È rimasta con cinque cuori Quando ne aveva tipo trenta Quindi Eh, e ho dovuto mangiare Anche la mella d'oro Quindi diciamo che Non è che sia andata Così tanto alla leggera Questo era molto bello Di mostro Molto, molto Vero? Cioè era fighissimo Si chiama Hastaroth Vediamo, vediamo Che fai? Cosa mi ha dato? Io guardo i poteri che mi danno Vediamo E mi ha buttato un po' di ghiaccio Vai È il suo attacco Credo fare Ottieni costantemente Gli attacchi Va bene Sì, sì Dei boss che sconfiggi Posso attaccarla? È davvero bassina lei Vabbè, questo secondo me è scarso Vado? Perché c'è uno zombie Secondo me fa schifo Che bello che è Prendi fuoco? Che bello Beh, teoricamente È una mummia Far prendere fuoco È una mummia Mi sembra buono Però questo è il primo Che esteticamente mi piace Aspetta, lo voglio rivedere Fammi vedere un po' Allora affrontatelo tu, Steph Scusa se lo vuoi rivedere Cavolo E dai, Fede È scarsissimo Non farei la mia voce Non ci provare Non ti permette Era così, era proprio uguale Guarda che ti metto qualche mob Di quelli forti Ti anniento, eh Io sono qua gentile Perché tu sei basta di vita Perché ti ha picchiato tantissimo Quella sorta di cosa schifosa Astarot lì Che era terribile Adesso ti metto Asmodeus Sto cercando di ucciderti Con le mie spade Lo so, cara Ma sono accorto Peccato Questo secondo me è carino Sono curioso di provarlo E poi lui Che adesso è bruttissimo Fede, ma l'hai recuperata un po' di vita? No No? Vado così? Sì Sei coraggiosa? Sì, sì Allora ti metto Pinky Oddio Pensavo fosse una roba carina dal nome Bello Pinky Pinky, sì Sì, sì Non mi evocare altri Pinky Picchiano, vero? Sì Cioè nella serie è basso di vita Ma fa un sacco di danno È come quando nei film Tipo Oh, ti presento il mio animaletto Ha un nome carino Tipo Marshmallow Poi lo vedi Ed è un cavolo di mostro uguale Ok Ha fatto lo stesso effetto Comunque per ora Questa armatura Si sta dimostrando fortissima Ma anche queste spade Che evocano mostriciattoli strani Che ti aiutano Allora Asmodeus Scusa Fer Dai, oh Steph Scusa Scusa Fer No, non dovevo evocare Anche cosa del genere Capisci? Sta facendo lucifer Sì, non ho capito Cosa devo fare Perché non sta prendendo danno Chiaramente Quindi che devo fare? Non lo so Anche perché c'è fase 1 In realtà sta scendendo di vita Se tu guardi bene la vita È quello il problema La guardi molto attentamente Non so come darti una mano Proviamo questa di fuoco Cosa possiamo fare? Non è la più pallida Cioè, dobbiamo Allora, Steph Tieni Ti ho dato una spada Vai E lo picchio? Sì Ma, fareci Stiamo 2000 anni Esatto È colpa tua, Steph Ci rimaniamo 45 ore Ma Ma non è una roba Interessante Da vedere O altro Non abbiamo spade Più forti No, non lo so Ci deve essere qualcosa Per fronteggiarlo Perché comunque Non ti sta facendo danno, no? Per ora no Io gli sto anche sparando frecce È davvero brutto Cioè, lo sto guardando da lontano È davvero brutto Sì Ha tipo Una mitraglietta al posto del sedere Ti ritaglia così Un minigun gigante È davvero è tepibile, sì Ma No, dai, Steph Che dobbiamo fare? Cioè, fase 1 Cioè, ad arrivare alla fase finale Ci mettiamo 40 anni Lo so Non so che fare Non c'è qualche mob Che se lo metti lo attacca O qualcosa del genere? Posso provare E combattono tra di loro Provare a evocare il troll Vai Troll Lui Non noi Cosa sta facendo? Non capisce nulla, Steph Non capisce nulla Non sembra furbo, vero? No, per niente Non capisce nulla Abbiamo rotto tutto Però, boh Alla fine non dà fastidio Quindi possiamo continuare Più o meno Guarda che ogni tanto Quando tira le sbitragliate Ti piglia A me no Però Ti credo sulla parola Ogni tanto Qualche freccia Gliela tiro Facciamo finta di nulla Aspetta che mi abbasso l'audio Perché sto cosa Non lo sopporto più In nessun modo possibile E facciamo Questa Secondo che questo è un altro boss Quindi cerchiamo di vedere Se possiamo Conterarlo con un altro boss Ne prendiamo questa volta quattro E direi che siamo pronti Il troll Sembra una schiappa Comunque È fermo Cioè È proprio immobile Scusa troll Puoi andartene Tanto dai fastidio E basta qua sinceramente Perché questo non dà fastidio No Questo non riusciamo a toglierlo Allora pronta a fare Ignoralo No perché mi attacca No Certo che mi attacca Mangiammele d'oro Sei scemo C'ho quattro cuori Mangiammele d'oro Non posso Perché mi avvelena E quindi lì non funziona Il reggente Vado evoco No Ti ho Ti ho uccidito qualcosa Allora provo ad evocare La Vespid E vediamo se l'attacca Vabbè l'ha distrutta E vabbè Una Vespa Non è servita a nulla Pensavo fosse qualcosa Di più utile Perché hai evocato Oddio Cos'è sto coso Boh Uno scorpione Ma qualcosa di forte Questo lo sta attaccando Però eh È chiaro Ma chi Io non vedo niente E c'è un coso che vola Ah no Sta attaccando a me Sì E siccome io sono lì sotto Ti sembra che attacchi l'altro Capito Ok Io ne ho anche messo tanti Pensando fossero utili Che devo fare Cioè hai rovinato tutto Lo so Lo so E tu ti aspettavi Che avremmo avuto Sto bestione evocabile No c'è questa vita Non abbiamo spade più forti Una spada No Invincibile No no Controllato Non c'è nulla Cioè è proprio Da uccidere con coraggio Ma è Vabbè no Con pazienza È impossibile Sono anche morta Perché sto guardando l'inventario Se ho qualcosa di particolare Che magari gli fa più danno Che ne so Non lo so Però adesso solo che Sti piccioni Ti stanno attaccando a rafica Sono cattivi anche questi Svalazzano E mettono fuoco per terra Cos'è il salamander Oh non c'è un mostro Che reputa anche solo carino Cioè guardate sto robo Quanto cavolo è brutto Vabbè una salamandra Steph Che ti aspetti Sono brutta anche della realtà Le salamandre E poi Vabbè Che ti aspetti Giustifica anche questo Cioè questo è carino di solito Eh vabbè Che ti devo dire A me stai niente Andando a scattare tutto Steph C'è troppa gente Non capisco più nulla Cioè mi sta esplodendo Bene io credo che Possiamo dire una cosa Ok Basta Mi hai rotto Che contro Asmodeus Neanche l'armatura Di Bedrock Può resistere Questo continua a tirare Colpi di minigun All'infinito Io direi che ci fermiamo così Mentre Fere viene attaccata Bruciata e distrutta L'armatura di Bedrock È dimostrato che è forte Ma non abbastanza Per sconfiggere Sto bestione Vabbè ma questo qui è esagerato Non abbiamo mai visto un boss così Io credo che Hanno davvero esagerato Che sto robo Lo affronteremo Perché mi sembra divertente Da affrontare Magari con Con altre Con altre spade Qualcosa di davvero Invincibile Capisci? No invincibile È troppo semplice Una via di mezzo C'è un bel po' di danno Esatto 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 E mi sa che questo Lo affronteremo in un altro video Però per ora Dobbiamo lasciare qua nell'arena A sparare Come un pazzo All'infinito Qua sotto Compariranno altri video E noi ci fermiamo Prima che sto cosa esploda E faccia altre cose Prima che vada in fase 2 O cose simili Che credo sia anche peggio E ci vediamo in un prossimo video